Ciao, sono Veronica di Fondazione Aspi. Io e i miei colleghi ci occupiamo tra i vari progetti anche di accessibilità dei videogiochi, facendo scouting tecnologico e sperimentando le soluzioni possibili. I videogiochi sono importanti perché sono espressione di un ruolo, sono veicolo di relazioni sociali e condivisione di interessi, ma sono anche fonti di motivazione e di soddisfazione. Tuttavia, chi ha grave disabilità motore ha difficoltà ad utilizzare i normali sistemi di controllo per i videogiochi e quindi sono necessari adattamenti tecnologici complessi, integrati e altamente personalizzati. Ciao, sono Marco di Fondazione Aspi. L'oggetto rosso che vedete è un joystick da bocca utilizzato per controllare il movimento del personaggio nel videogioco. Consente anche di simulare la pressione di due pulsanti tramite il soffio e l'aspirazione. Il cerchietto nero sulla testa permette di emulare il mouse tramite il movimento del capo grazie a un sensore giroscopico. Viene utilizzato per controllare il movimento della telecamera all'interno del videogioco. È stato inoltre posizionato sulla spalla un sensore che permette di simulare la pressione di un tasto tramite piccoli movimenti. Oggi vi racconto di Dennis che sin da quando era ragazzino ha sempre avuto una grande passione per i videogiochi. Da circa vent'anni, a causa di un evento traumatico, vive una condizione di tetraplegia, quindi con un'impossibilità di movimenti di arti e tronco, però movimenti residui di spalle e di capo. Oh, là, mi ha fatto un salto. Vai, attacca. Bene, ottimo. Muoviti, muoviti. Poi ovviamente si vuole pratica anche sul movimento. Oh, oh, sia. L'obiettivo è anche quello di personalizzazione, per anche unirmi a altre persone che hanno questa passione, quindi fare un po' più gruppo e stare un po' più bello a persone che condividono questo interesse. Durante la nostra consulenza, dopo molte prove, Dennis è riuscito a giocare ad un gioco scelto proprio da lui con grande soddisfazione. Vai, ok. 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 Vai, prova a camminare in avanti adesso mentre... Ok. Ok, sì, ci abbiamo fatta. Buono. Ci abbiamo fatta. Buono.